Ma certamente c'ero l'11 marzo ci sarò domani anche se la manifestazione di domani era programmata da tempo perché a Brescia si vota si elegge il sindaco non nascondo che a seguito di questa sentenza che noi riteniamo surreale la presenza di Berlusconi che doveva essere solamente all'interno di una conferenza stampa con i giornalisti è diventata una manifestazione di piazza perché siamo stati letteralmente sommersi da richieste. Condannare il primo contribuente italiano ad evasione fiscale per una somma irrisoria proporzionata alla quantità di denaro che ogni anno Berlusconi paga al fisco francamente troviamo che sia un qualcosa di incomprensibile. Noi stiamo al governo ma non smettiamo di fare politica. Lunedì il Dabo Cassini concluderà la requisitoria per il processo Rubi. Tornerete sulle gradinate del tribunale? Non lo abbiamo ancora deciso. Oggi non è prevista una manifestazione. Certamente noi vogliamo cogliere ogni occasione per ribadire la necessità di riformare la giustizia. Questa guerra dei vent'anni io credo che abbia avvelenato il clima nel paese. Noi e il presidente Berlusconi ne siamo stati vittime ma oggi tutto questo deve finire. E devo dire che su quanto è accaduto il giudizio storico lo hanno dato i cittadini, lo hanno dato gli elettori. Quello che spiace è che invece non viene compreso all'estero. Il PDL attribuisce a questo governo un significato storico di pacificazione. Lei che cosa intende per pacificazione? Crediamo che si debba mettere da parte le conflittualità che devono rimanere ancorata alla campagna elettorale e poi devono terminare nell'interesse del paese. Ci sono delle differenze che restano ma ci sono alcune cose che si possono fare insieme. Mi auguro che ci sia lo spazio per mettere da parte le ideologie e un certo sindacalismo estremo che porta a povertà e nient'altro e che si possano fare delle riforme serie. Penso che queste cose, lasciando perdere altri temi più scottanti in cui le divisioni sono più forti, possano e debbano essere affrontate insieme consentendo con un sostegno vero e senza imboscate, come il PD ci ha abituato in queste prime settimane possa mettere Letta e i suoi ministri nelle condizioni di svoltare. La nostra posizione sulla giustizia è chiara. Se mi chiede se sono ottimista sulla possibilità di trovare un'intesa con il PD su questo tema, le dico di no. Grazie a tutti.